Penso che il lavoro di questi mesi è stato un lavoro eccezionale, che ha messo insieme il meglio di una grande parte della città, con forze che hanno fatto il possibile per parlarsi, per costruire insieme, per convergere, e questo è il frutto della fatica di tutti e della determinazione, della fiducia e della forza di Paolo Pilotti.